Un vero e proprio supermarket della droga, quello che a Castorvilleri è stato sgominato dai carabinieri alle prime luci dell'alba. Cocaina, eroina, marijuana e hashish venivano forniti in maniera sistematica e continuativa e tra gli assuntori c'erano anche i minorenni. I militari del comando provinciale e della compagnia locale, coadiuvati dal nucleo cinofili e dall'ottavo NEC di Vibo Valencia, hanno tratto in arresto 12 persone, di cui uno in carcere, 7 ai domiciliari e 4 con obbligo di dimora. 24 invece gli avvisi di garanzia per detenzione ai fini di spaccio. Per l'operazione Big Square sono stati impegnati oltre 100 uomini. In questi 5 mesi i militari del nucleo operativo della compagnia di Castorvilleri sono riusciti a monitorare 33 utenze telefoniche, a eseguire 71 riscontri per un totale di circa un chilo di sostanza stupefacente, suddivisa tra cocaina, eroina, marijuana e magnite. Sempre durante la fase dell'attività investigativa sono stati segnalati alla prefettura di Cosenza ben 64 assuntori di modica quantità di sostanza stupefacente, oltre a 9 arresti in flagranza eseguiti dai militari dell'arma. Nelle 12 misure noi abbiamo anche inglobato 3 donne, due delle quali erano rispettivamente le compagne di altrettanti soggetti arrestati questa notte. Stiamo parlando di criminalità comune. Anche se inizialmente i nostri sospetti erano sulla criminalità organizzata in quanto l'attività trae proprio origine da un incendio avvenuto a ottobre del 2018, successivamente dopo eravamo appena usciti dall'attività Nerone. E quindi su Castorvilleri c'era un po' il sospetto che si potesse trattare di un'ulteriore estorsione o ricatto eccetera.